Sono molto lieto di questo pubblico per l'ultimo incontro dell'Accademia. Sono sempre Alberto Pasolo che ha diviso con il mio collega della Cassa di Scienze Umane la presentazione di queste conferenze e prima di tutto voglio fare un palco meno su queste conferenze. Mi sembra che siano state tutte quante, con pubblici variabili, ma poi con problemi anche di varia natura, di grandissima qualità e di straordinari interessi e hanno in qualche modo sottolineato le caratteristiche dell'Accademia, di essere un luogo dove ci sono esperienze, culture diverse che si vogliono incontrare e vogliono fare degli approfondimenti multidisciplinari. Quindi credo che siamo molto felici. In più credo che questa sala, che sia particolarmente adatta a fare questo tipo di incontri, proprio perché il circolo dei lettori di cui siamo molto fieri rappresenta un complemento fondamentale dell'attività accademica di senso lato e il fatto che sia una serie di grande riferimento per i pubblici è un motivo per mettere assieme, come oggi, dei grandi esperti di neurologia e di psicologia, degli studenti, dei medici e degli ingegneri, degli architetti, piazzi, che ho visto, degli illustri architetti, che ho visto in sala, che non sono andati all'altra regione degli architetti, però non faccio la spia, perché sono stati qui invece che da professore Isola, e che è più, naturalmente, è più il più vasto che vuole, è interessato a conoscere la realtà della scienza. La volta passata, che è stata molto bella, per giudizio, è stata un'occasione in cui il rettore del Politecnico, il Sol Cipria, però ha raccontato una cosa di grande interesse proprio sulle sue competenze, non come rettore, ma come informatico e esperto di reti e di comunicazione. Tanto che la volta passata siamo usciti tutti con almeno una parola in più del nostro vocabolario, un memristore, un memristore, che ci ha adeguito. Oggi sono sicuro che avremo due o tre di pannoli in più da portare a caso. Tengo di chiudere, e ancora, volevo, secondo me, doverosamente, a nome del Presidente, il Direttore dell'Alta Classe, ringraziare le fantastiche signore che ci hanno seguito in questa organizzazione, il nostro Cancelliere, che ha l'avancimento timida, Elena Borgi, che ha la console, come si dice, no, alle riprese, con un ragazzo di bottegna, un professor nero, che però oggi è timido, non si fa trovare. Rosa Girardi, che è la nostra guardiana del funzionamento perfetto, è molto severa, è una persona di cui noi abbiamo più timoroso rispetto, e che è scosta da qualche parte, magari avrete sentito dopo. E lei, ovviamente, Francesca, che è stata la nostra segretaria efficace, che è del direttore Melano, che è la nostra segretaria della Presidenza, che segue le parti più strettamente burocratiche di iniziativa. Presentare Giacomo Rizzolante è troppo facile, perché tutti lo conoscono, è nato a Chido qualche mese fa, no, qualche anno fa, ha avuto una formazione, diciamo, di neurologo, ha fatto l'imperfezionamento di straordinaria rilevanza, penso, tra tutti quelli che l'hanno spedimentato, a Pisa, che vuole son moruzzi, esperienze internazionali, è stato quindi uno dei più brillanti neurologi, neurofisiologi italiani. Quando, nel 1992, lui e il suo gruppo hanno portato i primi contributi organizzati sui giorni di neurologo specchio, era già famosissimo nel settore, era presidente di numerose società, era praticamente l'italiano, in termini di neurofisiologica. Quindi, come sempre, le grandi scoperte nascono anche dalla perseveranza in studi e un'eccellenza di questi studi. Certamente, lui, dal 1992-94, poi, ha accumulato, oltre che una serie incredibile di onori, accademi, come l'Accademia delle Scienze, di cui il socio, e che ha anche attribuito qualche anno fa, il premio Erlitzka per la fisiologica di numerose accademi nazionali e internazionali, ma non soltanto ha, praticamente, focalizzato su questi temi di neurofisiologica, l'interesse mondiale, anche perché c'è stata un'associazione che dice, come sempre, non è casuale, di ricercatori di straordinaria qualità, solo con la sua guida e quindi con la capacità collaborativa che è molto rara, anche nelle delle scienze, in cui si è andata insieme la psicologia, la scienza cognitiva, la fisiologia, l'anatomia, l'etologia, in cui in qualche modo ci parlerà anche, e la filosofia, a tutti gli aspetti. E quindi è un'occasione proprio straordinaria di, diciamo, metti in poti, in questo caso, di infusione su un tema di conoscenza che, praticamente, ha rivoluzionato le neuroscienze. Tanto è addirittura una vera che troppo successo, è diventare, secondo alcuni, una specie di palacea, la colla universale di attività pitagorica, qualcuno che mette assieme dalle scienze della mente alle attività motorie, alle attività motorie o artistiche o correttiche, quindi un po' di tutto. Però dietro questo c'è una scienza solida che continua a provvedire. E ogni volta, io ne ho già scritto alcune volte, non perché, ma mi trovo, perché sono io il suo primo tifoso, ho visto anche cambiare le conoscenze e anche in modo, che è molto interessante, quando fanno notare uno scienziato, una persona, di dichiarare che alcune cose che aveva pensato una certa volta sull'initazione, per esempio di prima, adesso non la pensa più. Quindi una capacità di ripensare le conoscenze e continuamente mettere al fuoco di quello che gli interesse in generale. siccome uno è un grande neuroscienziato americano, insomma dimmi, sarà vero, è vero, il fatto che il risultato di neuro di specchio sta alla psicologia e gliele neuroscienze generale, come la scoperta del DNA sta alla biologia e alla società, lo trasferisco, sono per tutto convinto che questo riconoscimento non è soltanto l'iperbole letteraria, ma corrisponde a qualcosa che invece ha sottostante un lavoro continuo di aggiornamento, di approfondimento, di revisione, di collaborazione, di valorizzazione dei suoi tanti e straordinari collaboratori, che non adottono il professor Giacomo Anzolanti e il viceversario. Grazie. Quindi io ringrazio molto sia il mio invito, ma soprattutto per questa presentazione di Aldo Fasolo, perché ha sottolineato qualcosa che mi ha dato molto piacere. Quello che non è che un giorno noi siamo dati in laboratorio, ma oggi scopriamo che erano rispetto, ma che i loro rispetto sono venuti fuori per un lungo lavoro precedente di aratura, di studio del sistema motorio che poi ha portato la ricerca. E anche se oggi parlerò del sistema di neurone istegno, voglio proprio incominciare con questo lavoro preliminare, cioè parlare un po' di come i nostri errori hanno trasformato l'idea del sistema motorio. Questo anche per eliminare quindi, anche questo è stato accennato da Aldo Fasolo, alcune speculazioni di giornalisti su questi neurone istegno che fa tutto. Cioè bisogna assoluto capire di cosa si tratta, poi si può anche speculare sull'ambito, sulla vastità della scoperta, se c'è. Bene, quindi ricomincio con una frase che è presa, no, fate luce pure per tutti i miei, non so, quindi ho bisogno di una frase da vedere. Questo è brato da un testo che per anni è stata la Bibbia dei Neurosidiologi, cioè il libro di Mon Kessel, pubblicato nell'84, adesso però mi accecate, pubblicato nell'84, e poi diceva il sistema motorio del cervello esiste per trasformare pensi, sensazioni, emozioni in movimenti. Ecco, poi c'è la seconda frase da cui dice, al momento sappiamo molto poco, come nasce la Bibbia dei Neurosidiologi, però la prima frase è molto importante, perché se voi ci pensate, nega al sistema motorio ogni funzione politica. Una volta che le cose più interessanti sono venute, emozioni, percezione, eccetera, poi viene fuori un movimento che è una specie di macchinetta, che era lì. Ecco, questa visione poi è riflessa da un altro pattern, che quelli che hanno fidato un po' l'ecologia o scienziativi conoscono, sono i cosiddetti omuncoli di Ursi, che dicono che esistono due aree che controllano il movimento. Ecco, più o meno questo è il quadro. Nel sistema motorio avulso dalle tensioni cognitive è rappresentato da queste mappe, una è la motoria primaria, l'altra è chiamata 5 dentali. Negli anni 80 è cominciata una revisione di questo punto di vista. Prima di tutto vorrei citare il lavoro di Peter Strick attualmente a Pittsburgh, che ha fatto un lavoro di anatomia molto augurato, cioè ha iniettato dei traccianti nel bidonno spinale, nella regione della mano, nella regione del braccio, nella regione del piede, e ha andato a vedere che cosa succede in corteggio. Come vedete nella presentazione del braccio non sono solo due in M1 e in SNA, ma sono almeno quattro. In realtà se lo scrivo un po' lungo anche quella chiamata per SNA, per gli altri movimenti che compaiono. Simultariamente da noi, soprattutto il merendio di Massimo Materni, ci siamo buttati anche noi solo dall'atomia e abbiamo cercato di riprendere l'organizzazione della corteggia motorio, usato prima la citoproposidale, poi anche il classico disco, cioè in mezzo di vari istotimici e di tipo classico, e abbiamo visto che il sistema motorio costa di a meno sette aree e insieme con i civici, poi i più giovani, come l'Udino, abbiamo anche attracciato le condizioni per cui abbiamo visto che c'è proprio un modulo, ad esempio, per il raggiungimento, per i movimenti, anzi di grassi, di aferramento, che voi vedete qui, che include il parietale. Quindi il motorio è uno stato l'abita solo, che naviga nel nulla, ma è strettamente legato al parietale, e anche non varietale, ma tanto come un motorio. Quindi si sta creando una particolare unità. iniziale, ecco, una volta c'erano detto, anatomia prima e fisiologia poi. E' effettivamente trovata l'anatomia, uno studia la fisiologia molto meglio. E così abbiamo cominciato ad esplorare questa moltiplicità di aree, e soprattutto una, quella di cui parlare del nostro territorio, che si chiama Area F5. Noi abbiamo usato questa nuova tecnologia che c'è nel nuovo cartello, presa da un economico che ha anche usato bene. Vedete come a caso, abbiamo scelto F, che vuol dire frontale, cioè eliminando il termine motore, che è sobrava un po' sviluente. Comunque la prima sorpresa, registrando i neuroni, il sistema nervoso parla, cioè i neuroni parla con una maniera particolare, generano dei potenziali di azione che fanno tac 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 tac, fanno tac tac se lo vedete in un altoparlante, ma sono dei potenziali tutti li a pieza uguale e quello che muovono è la frequenza. Poi vi farò vedere un filmato, capirete qui, tac tac che scrive bene cosa si chiama italiani. Bene, intorno a noi lo registriamo in questa area motoria e la prima sorpresa è che non codifica il movimento, ma quello che Marco Lappi va definito atto motorio. Faccio un esempio, questo movimento, se voi vi stimolate la corteccia, voi vedrete dei pliciti movimenti, ma se io faccio questo, questo è un insieme di movimenti che porta allo scopo. capite che qui c'è un salto di qualità, non si parla di sistemi motori che fanno movimenti, ma di neuroni che codificano lo scopo. Lo scopo è un concetto quasi filosofico, c'è quel neurone spara e dice l'organismo prendi, o dice l'organismo rompi, o dice l'organismo... Cioè, è veramente un vocabolario di azioni presente nel nostro sistema nervoso. Ecco, l'altra sorpresa, prima di questo volevo farvi vedere un esperimento recente. Quello che vi ho fatto vedere prima è una cosa vecchia di vendietà. Recentemente quando ci ha sfidato, siete sicuri di questa propria razione? Provate a usare questo strato strumento che vedete qui. Quello che vedete sopra, in A, è una pizza. In B, c'è quello strumento che in Francia usano per mangiare le lucche. Le scopo e con lo mangiare. Ma hai capito perché bisogna pigliare la romagna in quella maniera così goffa? Comunque, così è la tradizione. L'omagna si mangia con lo strumento. Proprio lo strumento è difficile da usare perché invece di chiudere la mano per prendere, uno per prendere, apre la mano. Proprio uno studioso francese ci ha fatto questa sfida, dice se voi dite che codifica lo scopo dell'azione, dovrebbe neurone attivarsi sia quanto prendi in questa maniera o meno in questa maniera. Così è stato. I dati precisi e scientifici non ve li mostro, ma vi mostro una scimmia che sa fare, sa usare lo strumento strato e piglia anche con la mano. Quello che dovete fare, quello che avevo detto prima, correttare quello che fa l'animale con il TAC-TAC. Il TAC-TAC è il linguaggio dei neuroni. I neuroni parlano l'uno con l'altro con questo potenziale di azione. Questo aumento di attività è quando il neurone è attivo a massimo. Questo è un neurone per prendere, trascido. Vedete che anche quando piglia con altro strumento c'è la stessa cosa. E quindi, notate adesso, continua a muovere, quindi i movimenti sono presenti, ma se i movimenti non portano lo scopo il neurone sta zitto. Il neurone dice prendi, non muovi semplicemente. Bene, l'altra cosa, come è stata forse ancora ugualmente interessante, sono le risposte vissime. Oggi decidi farvi vedere la solita cosa con cui ho fatto vedere, andrino un po', i fanno rossi. Vi faccio vedere i dati nuovi, insomma, su questo. Ho per arrivati i giovani, soprattutto Luca Bonini che attualmente ha un bellissimo laboratorio. Dico bellissimo con un po' di via. Il lavoro anch'io vedo, ma è lui quello che registra di più. Perché adesso con la tecnologia nuova, io ho un elettro, un euro del giorno, uno di due giorni. Adesso ci sono degli elettri speciali, che hanno tante posizioni da cui registro. Per cui lui mi porta 30, 40 euro in due settimane. E questo ci porta queste cifre. Questo lo dico perché mi dice, ma i neuroni di meno non sono pochi, ma questo in breve tempo abbiamo registrato 700 quasi neuroni e 138 sono mirro e 108 canonici. Adesso vi spiego cosa vuol dire canonici e mirro. Una situazione sperimentale sembra estremamente complessa, ma l'abbiamo fatto per rendere più quantitativa la cosa. Quindi lo stesso neurone viene studiato in 5 situazioni diverse. Le tre sopra è la scimmia che afferra un oggetto al buio, alla luce, o semplicemente guarda un oggetto senza afferrare. Le due sotto lo stesso neurone poi è stimolato, mentre c'è uno squimentatore che o prende un oggetto o semplicemente lo tocca. Ecco gli esempi. Questo è un neurone motorio. Se voi esaminate spara quando la scimmia afferra, ad esempio la prima fila, sia in luce che al buio, e non si attiva quando la scimmia semplicemente guarda. Questo è quello che abbiamo chiamato neurone canonico qualche anno fa. Cioè è un neurone che si attiva quando la scimmia vede un oggetto. Però se il neurone è fatto per afferrare con due dita, si attiva solo se vede un oggetto piccolo come un semino. Se il neurone è fatto per afferrare con tutta la vana, cioè comanda, whole hand-grass di questo tipo di afferramento, si attiva se vede una mela. Quindi c'è una trasformazione, chiamato canonico, perché in realtà c'è una trasformazione delle, quello che in psicologia si chiama una affordancy, cioè la maniera in cui uno può afferrare un oggetto nella presa che permette di afferrarlo. Questa non è una vera affordancy, comunque un po' so per l'altro anche così, e ci sarà un altro neurone. Qui se voi esaminate con attenzione, dalla seconda striscia, quella alla luce, ci sono due scariche, una in misagola, soprattutto lo secondo panenno, e quando la scimmia vede, e poi c'è un'altra scarica fortissima, quando la scimmia vede. E questo è il neurone specchio. In questo caso la terza tira, che qui vedete era completamente silente, la scimmia osservava uno sperimentatore a ferrare, ma non succedeva niente. E invece qui, quando vede a ferrare, c'è questo po' po' di scarico, quella roba nera, sono potenziali d'azione che si attivano. Quindi in questo momento noi facciamo un lavoro molto quantitativo, esaminando l'interamina, solo uno e così via, sono lavori molto tecnici, ma danno una quantificazione di quello che abbiamo fatto. E adesso io mi muovo e vi faccio vedere il filmato, che è la terza volta che lo faccio vedere, ma è la cosa migliore, soprattutto per quelli che sono neuroscienziati, per capire molto bene di quei dati oggettivi, vanno tantissimi, faccio vedere prima. Ora voi vedrete uno dei miei collaboratori, precisamente Fogassi, da giovane, che la ferra era simile a fare la stessa cosa. Vedete subito. Questo è ancora il neurone dell'atteramento, il GRASS, il neurone simile a quello che avete visto. Fanno l'altro così. E come l'altro neurone che avete visto? E questo è l'effetto mirror. È esattamente la stessa cellula. Fai ancora. ... Avete scritto perché? Perché lo scopo è a verra, non è sciogliato. questo film è molto bello che mostra alcune cose che vedete è altamente ripetibile spesso anche in fisiologie si vanno gli histogrammi si registrano attività di fila per vedere se c'è qualcosa qui io penso che qualsiasi che vede questo neurone è convinto che cosa sta facendo altamente ripetibile e poi c'è questo dialogo sia che io faccio qualcosa sia che osservo fare la stessa cosa c'è un skype c'è questo dialogo tra chi fa e chi osserva quei dati nuovi che vi ho fatto vedere prima forse un po' confusi erano in scipia condizionata ma i nostri studi originali erano fatti come ha detto anche Aldo Fasolo in condizioni etologiche questa è stata un'altra novità cioè noi abbiamo cercato di creare il sistema motorico non come si diceva negli Stati Uniti partendo studiando la cinematica dei movimenti la tramita di mostri eccetera ma proprio vedendo cosa succede in quelli eroni in un ambiente naturale tu dai da mangiare e lo porti via giochi con la scimmia e così via e quella scimmia in A non c'entra niente con l'esperimento questo è un intruso lei sta seduto nella sua capita e vede la scimmia che fa prete eccetera però ogni volta quando la scimmia vera la scimmia attore marcia nel cervello appena c'è una scarica quindi c'è non c'entra rinforzo non deve essere rinforzato ma ogni volta quando vedi c'è una scarica ora arriviamo a un primo quesito allora qual è la funzione di questi neuro di specchio direi subito che qui la questione è malposta se l'abbiamo posta in questi tempi perché quando l'abbiamo posta conoscevamo solo i neuro di specchio nel luogo frontale e nel luogo ambientale poi si è visto che i neuro di specchio ci sono in altre aree nel cingolo che è un'area legata alle emozioni nell'insula e poi un lavoro bellissimo fatto da più di diversi hanno dimostrato gli neuro di specchio negli uccelli attualmente noi abbiamo provato su due specie di uccelli campi a linea entrambi che hanno i neuro di specchio e il suono da loro emesso e il suono emesso da un modo specifico attiva lo stesso neurone basta modificare gli elementi il suono non risponde più e così anche distinguono uccelli di una specie simile ma non è che non fa parte dello stesso gruppo quindi la domanda era malposta perché non c'è una funzione ma la funzione dipende da dove i neuroni sono posti automaticamente quindi la domanda deve essere riproposta qual è la funzione nel neuro di specchio nel luogo frontale, l'insula, l'ingegno e così via hanno solo un meccanismo il meccanismo di trasformare informazione sensoriale non c'è un meccanismo di un'azione in un atto mottomico io vi leggo questa frase qui che immagino che veramente è cartesiano come eleganza che dice l'osservazione delle azioni fatte da altri agenti genera nel cervello dell'osservatore rappresentazioni simili a quelle degli agenti questo processo circolare da me all'azione e da l'azione e da altri io ha come conseguenza che la rappresentazione dell'azione è condivisa, share, è condivisa da due o più persone vedete che la cosa non banale di questo è questa condivisione di quello che fai tu lo capisco io direttamente, non è un processo differenziale l'esempio molto più banale, meno cartesiano che faccio io spesso agli studenti è immaginate di entrare in un bar e di vedere uno che afferra un bicchiere di birra beh la tradizione filosofica tradizionale direbbe è un processo differenziale io vedo la mano, vedo la birra e faccio delle differenze questo signore sta pigliando la birra in realtà per cose di questo tipo elementari non credo che ci occorre fare tutto questo lungo processo ma c'è una copia di quello che io vedo sensoriale che mi vedo una copia motorio cioè dentro di me ho lo stesso programma motorio e quindi immediatamente capisco vedete che dal punto di vista questo punto abbiamo discusso con Corrado Stigale che questa maniera di capire porta a qualcosa di molto diverso dal capire puramente oggettivo dalla teoria della mente o dal computer va bene ora uno dice voi dite che servono per capire altra sfida che c'era stata fatta tanti anni fa dice rifacito per capire ma se invece della visione ci sono dei suoni noi capiamo dal suonazione se io sto nella mia stanza del verde qualcuno cammina non vedo ma capisco cosa succede e lo stesso avviene se uno rompe un giornale se rompe dei serini e allora abbiamo fatto questo esperimento sulle scimmie si piglia un euro specchio e qui vi faccio vedere prima come faccio spesso il protocollo i dati diciamo brutti prima dell'elaborazione e se vedete qua se voi vedete questo è un euro specchio tipico perché la scimmia vede un pezzo di carta che viene rompendo i due pezzi con il trucco è questo a questo punto no c'è solo il suono abbiamo messo lo schermo per cui la scimmia non vede assolutamente niente vede lo schermo eppure c'è la scarica che è molto simile e questo è un controllo con white noise con un rumore che non descrive assolutamente niente non succede niente questo è un lavoro uscito su silence questo è stato chiesto una elaborazione statistica di popolazione eccetera che complica la visione ma per una rete più scientifica guardate S S è il suono suono favorito riga blu suono non favorito riga rossa vedete la differenza della popolazione di non so quanti neuroni 30 donne neuroni e tutti insieme dimostrano che effettivamente l'azione è stata capita ora qui vorrei questo l'ha detto soprattutto quando parlo negli Stati Uniti perché c'è stato questo battage di giornalistico su qualcosa di magico non c'è niente di magico nel neurone specchio non è che quando spara il neurone specchio uno capisce quando spara il neurone specchio viene attivato un pattern motorio molto complesso che attualmente sappiamo include addirittura dei neuroni cortico-spinali cioè che nella corteccia mandano un bidone il nostro lavoro di Roger Merle da lontra e ha visto che c'è una porzione di neuroni che comandano il movimento usiamo proprio la frase finale che ha proprio il cammino quindi non è che i neuroni specchio-spinali parlano con qualche entità misteriosa ma semplicemente determinano uno schema motorio che è quello stesso che noi usiamo sia quando immaginiamo il movimento io posso immaginare che sto avendo toccato il naso e dentro il mio cervello il pattern motorio pure quando effettivamente agiamo io trascorrerò questi dati qui arriverei a questi io fino ad ora ho sempre parlato di singoli neuroni ora però i singoli neuroni C è il metodo di gran lunga migliore per capire cosa fa la cellula e secondo me anche per capire come funziona il sistema nervoso se voglio avere però un quadro globale di qual è C e cui dove è il neurone specchio devo usare un'altra tecnica è la tecnica che abbiamo usato per avere la risonanza magnetica funzionale questa tecnica l'abbiamo usato con un gruppo di Romagna guidato da Giorgio perché Romagna? per due potenti uno perché i nostri colleghi belgi hanno avuto un'idea un'intuizione molto intelligente invece di creare speciali dissonanze per le scimmie che costano un mare di soldi è stata la via su cui si sono messi alcuni gruppi tedeschi che hanno speso veramente milioni di euro per creare delle risonanze specifiche per la scimmia loro hanno detto che noi si vediamo la scimmia e le insegniamo a stare quello che loro chiamano posizioni di sfince sta così guarda il puntino luminoso e il puntino luminoso cambia colore quando cambia colore deve calcare il portone e la scimmia esce il forzo ora se uno inseria la scimmia a fare questo se ne sta felice per 40 minuti così a guardare il suo puntino e pigliare l'inforzo a questo punto prendi la scimmia la metti in una risonanza clinica di quelle che c'è tanto ospedali e puoi avere questi risultati hanno incominciato con un testo e mezzo adesso abbiamo dei dati con tre testa insomma io ho provato noi abbiamo una risonanza che ci è stata data dalla cassa di risparmi che parla della fondazione che è la nostra metà dell'ospedale ho chiesto di usare per le scimmie assolutamente no i regolamenti italiani lo chiedono quindi bisogna avere meglio in mezzo si può comunque abbiamo fatto questo il prevedico con l'umano mentre le scimmie guardano il suo puntino luminoso noi tanti li possiamo presentare dei filmati che automaticamente vengono processati dal cervello e i filmati ovviamente non sono particolari interessanti ma in quelli che interessano afferrare un oggetto spingere e così via e se voi guardate qui con la risonanza spero si vede quelle macchie rosse sono il momento dove c'è l'attività dove i neuroni sparano se voi vedete c'è un circuito che include penso si veda STS è il terzo cervello del sinistro guardate solo l'ultima fila perché è fatto con tre testi quindi il sinistro è un terzo più chiaro il terzo cervello ha una macchia in corrispondenza di STS che è un'area puramente visiva non è un'area ma è un'area in cui le proprietà e le neuroni sono complesse per chi ha un'inglese in scozia dell'interno poi c'è un'altra area che è il parietale e la terza è l'area frontale che include la nostra area ma anche si dice un po' anche quindi vedete che è un miracolo non è il compagno di improvvisamente di neuroni sperico ma i neuroni sperico sono frutti in elaborazione in cui prima l'informazione visiva viene trasformata in questa capacità di colpire l'azione e poi si colpire col sistema motorio più recentemente sempre in collaborazione con l'olagno abbiamo cercato di essere ancora più precisi e quindi abbiamo fatto un doppio lavoro di risonanza e poi di iniezione di sostanze elettrope per vedere le aree che si attivavano se hanno collegato tra loro e quali di nuovo è libero di fare peggio perché preferisco piuttosto avere qualche domanda poi da voi però i risultati vogliono far vedere sono questi questi dati hanno mostrato che dall'area questo che voi vedete in basso è il sol contemporaneo superiore aperto e voi vedete il labbro dorsale e il labbro ventrale e questi dati hanno visto che ci sono due vie per i neuroni specchi uno che parte dal labbro dorsale e uno dal labbro ventrale voi dice perché dico questi dettagli forse sono istificati non tanto perché il labbro ventrale va a finire nella quella parte più inquare dal punto di vista fisiologico come se fosse il temporale inferiore e il temporale inferiore è un'area che noi sappiamo codifica la semantica degli oggetti quindi il sistema biore non ha solo informazioni sulla mano che afferra ma anche sulla qualità dell'oggetto afferra un bicchiere o afferra una tazza o afferra del gelato quello che è a questo punto per lui voglio direzione che è stata data soprattutto dei fisiologi più tradizionali voi sapete che nella fisiologia poi il campo che tra l'animo è stato invidere la visione perché ci occorre il sistema notorio perché non basta la visione beh sono due risposte uno questo ancora lo soccorre generò che era un teorico molto bravo per il sistema notorio e lui scrive una percezione visiva senza che intervenga il sistema notorio vi darà solo descrizione degli aspetti visibili del movimento ma non vi dà informazioni precise sulle componenti utrinseche che sono critiche per capire esattamente cosa si tratta qual è lo scopo dell'azione e anche come riprodurre e qui troverò sul punto che diceva solo per un momento come riprodurre o c'è l'imitazione cioè in altre parole il sistema visivo ci permette di descrivere le cose che non ci permette poi di fare un'altra cosa di generalizzare perché un quadro fa vedere una mano che piglia o una bocca che piglia o un piede che afferra nel caso della scimmia ma non di chi è treassi e nel sistema e nel sistema di chi è treassi auditorio per gli errori che vi ho fatto vedere per capire il prevedere indipendentemente se fa la mano o la mia e così via questa sulla scimmia tornerò un po' sulle emozioni ma adesso ci muoviamo verso il meccanismo degli uomini e qui ci sono stati due piloni uno che ho seguito molto io e uno che ho seguito molto meno però abbiamo cominciato insieme e questo è qualcosa che abbiamo fatto con luce alla fatica tanti anni fa quasi subito appena scoperti la scimmia abbiamo detto vediamo se si può dimostrare nell'uomo usando questa tecnica che si chiama stimolazione magnetica transcarbica questo è un esperimento che abbiamo avuto un bigliaia di non liquiditatori ma di former di gente che lo ha anche per anche densa cioè l'esperimento è veramente fermo quello che si può fare se io applico un magnete e poi un campo magnetico qui ho l'attivazione dell'area motoria se attivo l'area motoria vedo un movimento dei muscoli controlaterali il trucco è questo diminuisco l'intensità della stimolazione e ovviamente non vedo niente ma se faccio vedere uno che ha ferra l'informazione visiva arriva fino alla remotoria e se c'è il sistema birro io a questo punto vedo di nuovo un movimento questo è un trucco semplicissimo che permette di esaminare tante cose ecco quello che diceva giustamente l'altro fasolo che noi allora avevamo non capito trascurato che eravamo molto manfioriented e che se voi vedete qui a parte il effetto che vi ho detto guardate solo FDI e OP uno è l'opponente del pollice l'altro questo è un solo quadrico interosso ma guardate l'opponente del pollice quando io osservo uno che afferra compare il twitch muscolare se invece non osservo niente non guardo solo un puntino luminoso non vedo niente il dato che ci aveva che abbiamo minimizzato loro che è molto importante è che anche durante l'argumento observation cioè durante gesti di questo tipo c'era effetto ora nella scimmia noi non abbiamo mai trovato la capacità di codificare dei gesti intransitivi dei gesti privi di senso invece nell'uomo evidentemente c'è questo è un'altra dimostrazione di importanza però dell'altro momento questo è un esperimento che ha fatto la Pasqua Leone con altri e che ha visto che c'è proprio una sequenza cioè nel momento in cui io vedo uno fare dell'attivazione della mia corteccia motore segue esattamente il movimento quello c'è niente di cognitivo io non penso niente vedo e in quel momento si attiva esattamente ora questo spiega una serie polemiche che erano queste due posizioni cioè noi nella scimmia abbiamo difeso lascio l'understanding successivamente però ci sono state queste dimostrazioni sull'imitazione e uno studioso per esempio molto brillante molto sciarpo molto sveluto ha detto voi potete avere tutte e due le storie perché l'imitazione vuol dire in termini tecnico l'imitazione vuol dire ripetere quello che fa il mestro facendo esattamente gli stessi movimenti cioè non è semplicemente ottenere lo stesso scopo ci sono gli esperimenti di scimpanzee quindi segnano che per aprire un frutto artificiale bisogna fare così poi afferrare poi calcarlo fare tre movimenti in sequenza ecco per uno scimpanzee questo è difficile per un bambino è facilissimo perché noi siamo dei grandi imitatori lo scimpanzee non può dare un colpo aprire il suo profusale e mangiare ma questo non è imita il secondo che è chiamato emulation cioè cerca di raggiungere lo scopo torniamo a noi allora noi nella scimmia come gran parte di etologi comportano non troviamo neuroni del tipo o attività del tipo che vi ho fatto vedere nell'uomo sì e questo è un altro passo molto importante la maciatra anche lo stesso del dianeale neurologo di San Diego ha detto ma questo è fondamentale perché l'imitazione è la base della nostra cultura non è tanto l'invenzione quello che è la base della nostra cultura è l'imitazione perché allora passa la cultura da una generazione all'altra se non ci fosse l'imitazione ogni generazione dovrebbe reinventare tutto e questo è un problema degli animali perché la cultura degli animali è così parale come i dati ma sì c'è la cultura fanno questo in realtà siamo cose completamente primitive della cultura ci sono dei partner di comportamento che un po' vengono seguiti invece noi sì noi siamo una macchina per alimentare i bambini sono una cosa impressionante soprattutto quando è noto quando il papà a me non c'è una cosa ma quando è noto spalorizzo da cosa fare questi bambini quanto imparano ecco io però sono un quadro meno di imitazione quando molto di più dei meccanismi di comprensione dell'azione e questi sono qui di nuovo un particolare politica ecco tutti adesso parlano male di convergero un criminale eccetera forse negli anni lo ha fatto però negli anni 90 lui ha creato un centro di passare a fede che è stata una meraviglia non solo dal punto di vista medico ma anche dal punto di vista scientifico questi esperimenti noi appena scoperti la racciglia siamo andati da Ferruccio Fazio che era il capo della pezza dove c'era questo altro centro e abbiamo fatto gli esperimenti anche questo è stato scoperto in Italia poi sono andato a Los Angeles scopertivo a fare gli esperimenti ma anche questo è stato scoperto in Italia ora l'esperimento è molto bello perché semplicemente eravamo proprio artigianali si metteva uno studente che aveva fatto il mio figlio dentro una risonanza e poi c'era un materno in quel periodo che afferrava l'oggetto intanto gli aerei di Fazio ci portavano a un materiale radioattivo che veniva iniettato dalla persona che era perso in base con il materiale radioattivo e si vedeva che parte della corteccia si attivavano per me era emozionante vedere che si attivavano le aree motorie questo è i nostri vecchi risultati però adesso è più importante far vedere quale c'è il risultato quale c'è una meta-analisi fatta in Germania nel laboratorio di Zeller su Kassel che forse il maggiore addomino in questo campo in Europa su 125 casi che se voi vedete la situazione è come avevano trovato a San Raffaele e come nella Scindia cioè è molto più grande dell'uomo però le regioni sono le stesse cioè l'evoluzione non ha fatto cambiare e ha lasciato le stesse cose l'evoluzione quando trova una soluzione non la butta via è il meccanismo specchio di questi esempi cioè quando l'evoluzione ha trovato questo tipo di meccanismo non la butta via ecco qui io sono molto cauto quindi agli esito molto più sanguinni e agli esito molto cauto è uno degli esperimenti che ho fatto proprio per dimostrare i limiti dei neuromismi e questo l'abbiamo fatto con Cine e con altri è un esperimento è molto semplice fatto sugli studenti vanno in risonanza e vedono tre tipi di video uno è lo studente che morbe con un pezzo di vela oppure la scimmia che fa la stessa azione oppure un cane quindi visivamente molto diverso però l'azione mondoria è la stessa morbe la terra secondo la parte dell'esperimento vedono invece il ragazzo che legge un giornale però non si sente è quello che si dice il labiale la scimmia fa quello che è chiamato l'imspent poi vi farò vedere gli esempi nell'ultima parte del discorso è il cane il papaya di nuovo non si sente il rumore i risultati sono chiari questo è la prima situazione la situazione di un pattern che è comune a noi alla scimmia e al cane se voi guardate il mistero di sinistra questo che sta vicino a me le macchie rosse sono identiche se si fa una soprazione non c'è differenza quindi io capisco che un cane avare come se fosse un essere umano che avare come se fosse un sitino che penso che volte che volte non avare che volte non avare la cosa cambia radicalmente in caso di atteggiamenti di motore che noi lo vediamo quando il cane abbaya io vedo il cane abbayare e poi faccio i processi differenziali di cui parlavano i filosofi ma non lo capisco internamente io non so cosa vuol dire abbayare me l'hanno insegnato ma dentro di me non c'è niente invece se vedo un cane morto sono le visioni che moro anch'io o afferro con la bocca per una scimmia è un beh adesso scientificamente c'è molto poco c'è una piccola macchietta se voi vedete nella regione di Broca cioè nell'area che ci serve per capire il linguaggio c'è una piccola macchietta perché noi abbiamo fatto quello che viene chiamato il debrief che abbiamo chiesto gli studenti ma cosa faceva la scimmia secondo loro la maggior parte c'è un mondo lo so forse guardate il cibo poi c'erano quelli più intellettuali di quali c'erano la scimmia cercava di dirgli qualcosa quando fa così che effettivamente è un po' di meno c'è è un linguaggio è una comunicazione che fa la scimmia quindi quelli che dicevano fa qualcosa attivavano si immedesimavano nel linguaggio della scimmia c'erano di capirlo internamente però il fatto centrale questo è che io ci tengo non è che i loro risvecchio per capire tutto ci aiutano a capire ci fanno capire quello che noi siamo capaci di fare però c'è una sottigliezza che non è trascurabile ci fanno capire però dal punto di vista nostro cioè entriamo in risonanza con l'altra persona non è come se osservassimo qualcosa sul computer cioè noi e l'altro diventiamo come aveva scritto Germainot we share la stessa azione e questo sarà più importante per le emozioni che vi farò vedere tra un momento vi avvengo vedete ecco parliamo un momentino della social communication emozioni le emozioni hanno tante aree noi ci siamo focalizzati su un'area di insula che non è il centro fondamentale delle emozioni ma sta un po' avventastrata la corteccia che coglie le varie specie i disini sonori eccetera e come dice giustamente Damagio i cegli molto sotto l'orticale noi diciamo il trombo dell'encefalo che sono quelli che esprimono le emozioni comunque l'isola sta in mezzo una specie di interfaccia tra i nostri processi cognitivi e le emozioni come espressione più elementare rabbia eccetera abbiamo fatto un esperimento in cui si divideva in risonanza un uomo ancora una volta si divideva in due parti nella prima parte si faceva vedere che si faceva anzi non vedere si dimetteva nel naso dei soggetti diversi odori odori che potrebbero essere piacevoli odori che potrebbero essere sgradevoli i migliori di non essere sgradevoli se uno mette odore di uova marcia dentro il naso di uno sono tutti disgustati mafili femmine giochi vecchi tu insomma non è una cosa assolutamente probabilmente la stessa cosa che in reazione si parla lasciate senz'altro seconda parte dell'esperimento invece vedevano l'emozione fatta da un'altra persona quindi non è più lo stimolo che determina l'emozione ma il vedere l'emozione da un'altra persona questi sono gli stimoli visivi voi vedete il disgustro che faceva quella signora lì a sinistra i risultati sono questi cioè e anzitutto gli stimoli di noi abbiamo avuto molto successo gli stimoli scradevoli credo non sia un caso comunque gli stimoli scradevoli sono quelli che voi vedete là in rosso determinano un'attivazione guardate solo i B A non importa A è la B ma B è l'isola l'isola ci sono le macchiette rosse questo sono l'isola anteriore che è una delle sedi per non scrivo e questo è quando noi vediamo un altro emozionarsi i punti i bianchi sono i punti esattamente gli stessi boss che si arrivano quando io mi emoziono quando io provo disgusto e quando vedo disgusto nell'altro quindi il tuo disgusto diventa il mio disgusto noi abbiamo chiamato questo lavoro entrambi disgustati nella mia isola perché effettivamente è vedete qui c'è la duplicità il bello di questo meccanismo è che non siamo delle monadi ma quello che fai tu entra dentro di me esattamente nella stessa parte neurale che soffre quando in questo caso il disgusto ma poco tempo dopo un esperimento simile è stato fatto a Londra col dolore e si vede la stessa cosa il mio dolore c'è un altro che punge il soggetto ovvero la fidanzata il fidanzata non è stato sulle ragazze il fidanzata che viene punto e si attiva la stessa quindi noi abbiamo questa capacità di legare con gli altri che è veramente biologico naturale e vivo questo è diversa la maniera di capire le emozioni in altra maniera perché se qualcuno mi manda un messaggio con il me e la faccina sorridente anche lì capisco che lui è contento e scontento ma non succede niente perché è una mia comprensione cognitiva come se vi avessi detto sono scontento sto scherzando e così via quindi la stessa cosa che vi ho dimostrato proprio per le azioni fregne il prendere che noi abbiamo in comune con gli altri ancora più importante dal punto di vista sociale è che noi siamo in contatto con gli altri il che puntaria completamente alla nozione del cervello come computer che lì elabora le cose sta solo nel suo buio e fa no noi in realtà siamo fatti per essere in contatto con gli altri adesso abbiamo cercato insieme con due studenti Fausto Caruana e Armand Censini di studiare un po' più a fondo l'insula e adesso vi farò vedere degli esperimenti che sono molto facili da capire noi abbiamo usato una tecnica vecchissima cioè la stimolazione elettrica dell'insula nella scimmia mettendo un elettrico dentro e vedere cosa succede con stimolazioni provocate questo ci ha portato a trovare varie zone dell'insula per il momento concentratevi sulla parte anteriore vedete questa parte qui colorata ora qui ci sono dei programmi motori e adesso voi mi direte faccio attenti in parte che cosa secondo me è quando noi stimoliamo quella parte la luce rossa è quando noi stimoliamo la scimmia sta ferma luce rossa stop quindi ogni volta quando stimoliamo si mette a masticare c'è un programma motorio piccola emozione ma niente a che fare ma è un programma motorio adesso io sposto a questo altro ho spostato l'elettrico lievemente dentro al mente più in basso c'è ancora un programma motorio ma vedrete perché cos'è questo programma motorio no mi sto facendo vedere il filmato guardate l'area di uso della scimmia schifo è l'area di disgusto ci siamo passati da un programma motorio gestivo positivo mangiare a un programma vieni lo guarda stimoliamo non gli piace c'è le altre parole queste quindi praticamente l'insole è fatta a bosare con c'è una regione che comanda i programmi motori per mangiare subito sotto c'è un comando motorio per buttare via c'è un disgustato e questo aiuta molto per capire quello che vi ho fatto vedere prima perché vi fa vedere che è esattamente ancora l'attivazione motoria che determina l'emozione questo guardate ancora un momentino vi avevo citato prima il sped qui andiamo in un'altra regione ancora dell'inizio la più ventrale dove è rappresentato quei geniti questo lì di sped è una specie di gesto tra l'attiviativo un po' di paura ma siamo rici un po' come quando un'ascensore guarda l'altro con lo spese di sorrisetto la scimmia quando ha una persona che è un'altra scimmia che non conosce tanto ma può fare la pace ma adesso lo vedrete ora quello che voi dovete vedere di nuovo se pare la luce e poi compare intanto la faccia di questo nostro studente il valese il quale è bravo a giocare con le scimmie però si si avvicina troppo la scimmia si spaventa quindi vedrete la situazione in cui la scimmia fa quell'ipsbacking è contenta di stare lì e poi nel momento in cui lui si avvicina troppo la scimmia si spaventa ma se noi la stimoliamo cambiamo immediatamente il suo umore da paura diventa contenta vediamo se riesce bene ecco qui la scimmia fa l'ipsbacking lui fa così si arrabbia ma se viene stimolato la lucida rossa torna a essere contenta appena spende la stimolazione risponde con una minaccia la minaccia dello studente ve lo faccio rivedere di nuovo si si riesce a capire o no cioè voi dovete vedere cioè prima fa la scimmia spare che buio rosso non si vedeva cioè quello che voi vedete è che la scimmia comincia a fare tutto poi il studente si è vicina la minaccia lei risponde con la minaccia ma se in questo momento compare la lucida rossa cioè noi scriviamo l'area del piacere diciamo cambia immediatamente il suo umore e lei nonostante che abbia questo faccione a pochi centimetri risponde con un gesto di si va bene sull'accordo ve lo rifaccio vedere si arrabbia appena compare la lucida rossa torna a fare si arrabbia contenta si arrabbia cioè noi praticamente moduliamo in questa maniera questo che ho fatto vedere per evitare la concezione psicologica che l'emozione è qualcosa così di elevato no l'emozione è un programma motorio e che viene determinato elettricamente se si vuole ed è quello stesso che nell'uomo abbiamo dimostrato concludo con un'ultima serie di esperimenti che sono una cosa che ci interessa molto adesso io ho parlato di azioni fredde a ferrare un bicchiere ho parlato di emozioni ma c'è una terza categoria di comportamenti che sono stati descritti in maniera molto bella molto letteraria da un psicanalista è un neosidiario di cantina molto famoso la mia esterna la mia esterna ha studiato molto i bambini e ha parlato di qualcosa che non è una vera emozione e non è un vero processo con la mia esterna metà strada che lui chiama vitality afferzo vitality force qui è un po' caricaturale quello che dice ma mi farò vedere il filmato che vi fa capire cosa consiste ecco questo è lo stesso gesto ma è stato fatto in maniera diversa il primo dice stai vuoto ma gentilmente l'altro dice stai vuoto ma con violenza non c'è un'emozione di base terminiare non c'è ira non c'è rabbia non c'è la paura però è un qualcosa che comunica un stato mentale e questo è un altro esempio con un gesto il transitivo il transitivo ecco noi abbiamo fatto un esperimento con la risonanza magnetica funzionale facendo vedere in una maniera abbastanza complicata cioè alternando azioni in cui il soggetto deve capire il ruota che cosa sta facendo e quello in cui deve capire lo stato la forma di vitalità e questi sono i risultati se voi guardate così a prima vista sembra quasi uguale in A sono la capacità di riconoscere le azioni in B la capacità di riconoscere le libertà e gli effetti sembra quasi uguale però se si fanno le sottrazioni si vede a sinistra che per quanto riguarda le azioni la corteggia è molto più interessata perché è più difficile probabilmente capire l'azione ma per quanto riguarda le forme di vitalità o vitality effect c'è una sola zona che è specificatamente attiva ed è l'insola e non è l'insola anteriore non è quell'insola che noi abbiamo scoperto che determina le emozioni ma è una porzione di insola centrale che è in collegamento con la Bibbia dell'Ipocampo cioè è un'altra via che fluisce che permette di capire le emozioni degli altri nati non le emozioni di base ma questi affect di un pandasire ora per concludere non vi faccio vedere i dati perché il tempo sta scadendo ma questi vitality e qualche altro esperimento ci ha fatto muovere verso l'autismo cioè l'autismo è una sindrome purtroppo che diventa sempre più diffusa dal punto di vista puramente se uno pensa della genetica dovrebbe sparire perché è una malattia sicuramente su base genetica e sicuramente gli affetti dall'autismo fanno meno figli degli altri quindi per una legge biologica l'autismo dovrebbe essere qualcosa che sparisce invece aumenta cioè si parlava di 1 per prima si parla di america di 1 per 100 cioè è veramente alcuni di Romero hanno fatto meglio la diagnosi non è così io sono convinto che in realtà è la vita sociale che porta a questi disturbi comunque è una malattia genetica anzi una malattia neurologica c'è una malattia genetica perché parla di malattia neurologica di una malattia psicologica psichiatrica perché gli esperimenti che noi abbiamo fatto e adesso sta diventando direi quasi di moda è che questi bambini autistici hanno dei forti è il motore cioè il bambino autistico prima ancora di dimostrare a tutti i risultati cognitivi che conosciamo sociali di comunicazione ha dei disturbi motori che si possono già notare nei primi mesi di vita per i certi tipi di autistico c'è uno che compare da altri noi non abbiamo fatto questo e abbiamo visto che il bambino autistico di fronte all'azione di un altro innanzitutto l'azione dell'altro non li entra nel sistema motorio cioè il sistema mirror è necessitario ma non credo che quello sia la causa prima la causa prima è che lui è il goffo dei movimenti non li fa bene lo sviluppo motorio non è normale ma se lo sviluppo motorio non è normale non può svilupparsi un sistema mirror che è un sistema motorio di tipo sofisticato il rapporto poi con altri benefici è complicato perché hanno anche gli strutturi genetici però per concludere quello che adesso su ispirazione di ster abbiamo voluto vedere è cosa succede per quanto riguarda questi vitality forms i vitality forms sono qualcosa di sottile cioè che ti dice che cosa l'altro pensa di me senza che debba sbraitare o imparare così via ora immaginate il rapporto tra due fidanzati cioè oltre due semplicemente non si conoscono ma questo ragazzo comincia a fare un po' la porta alla ragazza capisce o non capisce che quella gli dà un oggetto con un paio e con i redditi o con gentilezza cioè questo tipo rapporto di cose le famiglie autistici praticamente manca e queste cose un po' caricaturate loro fanno un sacco di errori cioè non riescono a capire se l'altro è stato fatto diciamo vigorosamente con amore o è stato fatto invece no e questo è un dato secondo noi molto importante perché parlando appunto con sterne delle persone che si interessano di molto piccoli questo è un tipo di comunicazione che incomincia subito la mamma e il bambino il bambino neonato già incomincia a rispondere ai gesti della mamma quindi se questo tipo di meccanismo è assente non è sorprendente che il bambino successivamente nell'evoluzione non riesce a cogliere quindi il sistema motorio di comunicazione che precede quello cognitivo è vero che poi hanno problemi con la tiri o mai con quello che volete ma il bambino fin dall'inizio se ha questo tecnico neurologico genetico ha un'enorme difficoltà a capire e ci sono studiosi che fanno modelli animali che pensano che c'è per le emozioni o per questo tipo di emozioni come come un periodo critico per l'inglese se uno non è parato da bambino la centina non ce l'ha potrà evitarlo ma non ce la fa la stessa cosa risponde il sistema visivo nel numero di viso il fenomeno a feci perché se se non vede con un occhio quell'occhio in un periodo critico non prende più non c'è un piano che venga ora per le emozioni e per questo tipo di comportamento se una c'è la stessa cosa un bambino in un certo periodo molto precoce della sua vita deve avere questi stimoli positivi o dalla mamma o comunque comunicativi se non ce li ha e per ragioni genetiche previsioni forse di avere molto di più di quello che ha un bambino normale fa finire questa forma di non comunicazione e lui stesso non genera questi gesti e quindi si strada sulla via dell'autismo questo concetto attualmente sta diventando sempre più popolare non credo che nel DSR nuovo vogliono mettere anche i disturbi motori dentro non sarebbe il caso che li mettessero insieme a quelli comunicativi perché sono fondamentali però almeno io ho visto dei filmati e ci credo ci sono dei gruppi negli Stati Uniti che dice che se un bambino preso molto precocemente e con un aumento di simboli di questo tipo cioè non basta che la mamma stia ogni tanto mezz'oretta con lui cioè questi bambini bisogna avere una iperstimolazione in questo caso sembra che la prognosi è molto migliore che normalmente cioè non si va in quelle forme ripeto per cui ci sono anche le medici l'eurodisi fisiciari è una batteria complessa il 30% ha un quadro epilettico epilessia può essere continuo può distruggere cose poi anche la testa genetica si parla di bambini high functioning low functioning alcuni sono molto intelligenti ma noi che abbiamo lavorato solo sui high functioning su quelli che hanno otto magari fisiche e matematiche e poi non riescono a capire se questo gesto qui è positivo o negativo cioè questo è il effetto di quelli che hanno la struttura intellettuale donna bene sono partito alla scimmia e sono finito con l'autismo mi fermo qui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti